Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto abitini e scarpette dedicare, aperta parentesi quadra, consegna immediata. Di designazione, giacca. S, larghezza del corpo larghezza 38 cm 42 cm di lunghezza 37 cm. M, larghezza della spalla 39 cm larghezza del corpo 44 cm di lunghezza 38 cm. L, larghezza della spalla larghezza del corpo 40 cm di lunghezza 46 cm 40 cm. XL, larghezza della spalla 42 cm larghezza del corpo di lunghezza 50 cm 42 cm. Bentil, larghezza della spalla 43 cm larghezza del corpo 52 cm di lunghezza 43 cm. Scherz. L, larghezza del corpo lunghezza 44 cm di larghezza 60 cm spalla 37-39 cm. S, larghezza del corpo lunghezza 46 cm di larghezza 62 cm spalla 38-40 cm. M, 39-42 cm di larghezza lunghezza. L, larghezza del corpo 48 cm 65 cm di spalla. L, larghezza del corpo lunghezza 50 cm di larghezza 67 cm spalla 41-44 cm. XL, larghezza del corpo lunghezza di 50 cm di larghezza 67 cm spalla 42-44 cm. Ventil, pantaloni. S, 37 cm vita a fianchi della biforcazione 45 cm di lunghezza 73 cm. M, 38 cm vita a fianchi della biforcazione 48 cm di lunghezza 74 cm. L, 39 cm vita a fianchi della biforcazione 52 cm di lunghezza 75 cm. XL, 42 cm vita a fianchi della biforcazione 52 cm di lunghezza 75 cm. Ventil, 44 cm vita a fianchi della biforcazione 54 cm di lunghezza 77 cm. Cintura perizoma, cintura sistemica. Formato libero. Diventa il piatto dimensione. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon IT, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.